Giro in battello, Lugano ... Sori there, take a sit-ah su YouTube ebbene ebbene C'è buono qui? Qui sono volante a questa Sì Sì, siamo fissi con Campanoli Questa qui è una delle vedi che si chiacchia non va lì su Con tutta la sua integrità Vediamo anche l'autista Guardate produzione E' il Questa si sente Sì, però qui c'è la concessionaria, la concessionaria di agosto, sì, però anche qui c'è la concessionaria. E poi la concessione lì che lo portano qua. Sì, beh, di bella poccella. Porto la Genova fa delle cose un po' in stile. Oh, i ragazzi, ha un video. E' una cascata. E' cascata, ci faccio tutte cascate tra un po'. Ecco. Lasciamo ogni commento. Perciò... C'è un ragazzo. C'è un ragazzo. Ciao. Grazie a tutti.